buongiorno e benvenuti in questa puntata di pillole di efficienza siamo all'ottavo episodio relativo al benessere del sistema cardiovascolare come l'allenamento influisce su questo benessere una delle tante domande che mi viene posta ma perché non mi accorgo che il mio sistema cardiovascolare non è nella sua massima efficienza non sta funzionando normalmente non è posizionato al suo stadio basale minimo indispensabile a farci stare bene in realtà fondamentalmente l'organismo ci invia segnali relativi al fatto che qualcosa non sta funzionando nel verso giusto e che spesso volentieri noi siamo sordi rispetto questi segnali li confondiamo con altri con altre con altre cose o tentiamo di porre rimedio alla sintomatologia in essere con metodiche che non richiedano il nostro intervento mi spiego meglio uno dei classici segnali è la stanchezza la stanchezza cronica la stanchezza tra virgolette di quella tv tipo umorale poca voglia di fare la spossatezza quando c'è il caldo il nostro corpo deve essere in grado ad adattarsi al freddo e al caldo non è giustificabile che perché è caldo siamo così stanchi da dover ricorrere a qualche rimedio o da non riuscire a sbrigare la quotidianità se non ci riusciamo c'è da preoccuparsi il caldo c'è c'è sempre stato il nostro corpo se non riesce ad adattarsi vuol dire che c'è qualcosa che non funziona questo qualcosa che non funziona in altri video relativi al concetto di circadianità scoprirete cos'è in questo video parliamo del sistema cardiovascolare uno dei parametri utili a far funzionare il nostro bene il nostro organismo è il fatto che il sistema cardiovascolare deve godere una certa efficienza cioè deve essere capace di portare ossigeno ai tessuti e spellere anidità carbonica nel massimo della sua efficienza se così con è non è qualcosa comincia a funzionare storto si accendono le spie sul cruscotto come nell'automobile la stanchezza cronica l'incapacità di svolgere o sbrigare la quotidianità qualsiasi sforzo diventa insopportabile le gambe gonfie la cellulite il sovrappeso la difficoltà di magrire il mal di testa e quant'altro segnali utili a farci capire che il sistema non funziona ai quali in questa società spesso cerchiamo di porre rimedio con con quello che ci fa comodo con i con le bustine dei sali minerali sperando che tutto si risolva in 4 4 8 in realtà non è che uno ogni giorno va a farsi un elettro cardiogramma per capire se c'è la sua variabilità cardiaca è efficiente di per sé il massimo sforzo poi che uno va a fare durante la sua quotidianità forse è quello di pigiare il tasto per chiamare l'ascensore utilizzare il mouse cosa volete che ci si accorgia si si accorga in cui come volete che ci si accorga che c'è qualcosa che non va se il massimo sforzo che riusciamo a fare è quello di salire l'ascensore salire l'automobile consumare la nostra quotidianità da seduti passiamo dal letto a seduti a fare colazione seduti in automobili o in tram a appigliare l'ascensore per sedersi in ufficio per ripigliare l'ascensore per risedersi in automobili in tram per andare a casa sedersi sul divano in questo tram tram quotidiano come possiamo accorgersi che c'è qualcosa che non va se c'è qualcosa che non va sia no ce ne accorgiamo con la sintomatologia appena descritta o forse perché magari al sabato domenica giocando con il nostro figlio al parco e ci siamo resi conti che non ce la facciamo siamo andati a fare il picnic con gli amici in montagna ci siamo resi conto che non riuscivamo a salire forse ci rendiamo conto che c'è qualcosa che non va perché le gambe sono sempre gonfie e fanno male ecco dobbiamo arrivare all'estremo per capire che c'è qualcosa che non va altrimenti difficilmente siamo sintonizzati in ascolto dei segnali che l'organismo ci manda in questa società della quale lo star male è diventato quasi la normalità siccome c'erano tutti ce l'ho anch'io chissà cosa vuoi che sia quando invece di fatto che le gambe sono sempre gonfie nasconde grossi problemi di microcircolazione risolvibili svolgendo quotidianamente attività di tipo cardiovascolare ma si sa è più facile andare andare al market o nello store acquistare le pillole a base di mirtillo siberiano che garantiranno il fatto che senza nulla fare tutto tornerà alla sua normalità nel mio canale ho inserito più video uno di questi il fitness delle illusioni l'altro una società in disordine metabolico nelle quali evidenzio l'assurdità del sistema l'assurdità nell'artificiosità nella quale viviamo l'assurdità della della convinzione che tutto vada bene e che tutto si risolverà con mezzi artificiosi e strani nel nostro organismo vi voglio raccontare un aneddoto tempo fa al centro commerciale c'era la scala mobile rotta e quindi l'unico modo per salire al piano superiore era o andare a piedi fare scale o recarsi dal lato opposto del centro commerciale e pigliare l'unica scala mobile che stava funzionando con mio stupore e mia sorpresa notai come una signora visibilmente inferocita dal fatto che la scala mobile non funzionava anziché salire a scale a piedi e sbrigarsene nel qualche minuto perse parecchio tempo nel girare l'intero centro commerciale in cerca di una scala mobile sbraitando del fatto che non è ammissibile che non ci siano le scale mobile che funzionano lungi da me dar giudizi o esprimere giudizi se avesse scalito le scale a piedi o magari di corsa avrebbe sfruttato quell'occasione per dare uno stimolo al suo organismo di tipo cardiovascolare ha perso tempo sbraitando e nervosendosi a cercare un'altra scala mobile dal lato opposto del centro commerciale qualche passo in più magari l'ha anche fatto teniamoci conto della solità del sistema nel quale viviamo e nel quale cerchiamo soluzioni utili al nostro benessere quando le soluzioni stanno dentro noi bisogna saper ascoltare il proprio organismo e sfruttare ogni momento utile della nostra giornata per nutrire l'organismo non solo di cibo ma di tutti gli elementi nel quale questi necessita dall'allenamento cardiovascolare a quello di tipo muscolare alla prossima puntata